L'apertura della scuola è sempre un momento magico, le persone si ritrovano, domandano come è andata l'estate e poi ci si mette lì, quasi sempre con questo spirito affaticato, ricominciamo, in realtà tutti abbiamo voglia di ricominciare e l'apertura della scuola in realtà è sempre un momento gioioso e deve essere un momento gioioso perché si ritorna insieme, si ritorna nelle classi, si ritorna nelle scuole, si ritorna anche a incontrare persone nuove, non soltanto quelle che abbiamo incontrato gli anni prima, si trovano nuovi amici e nuove persone. Io vi invito a pensare proprio questo, bisogna vivere la scuola, bisogna vivere la scuola come un momento di comunità perché poi le persone che si incontrano negli anni di scuola, anche nei primi anni di scuola poi rimangono poi di riferimento per tutta la vita. Io stesso continuo a ritrovare ogni tanto i vecchi amici di scuola, nella scuola si sedimentano quei rapporti che poi rimangono nel tempo, dall'altra parte la scuola è un luogo in cui si deve apprendere, è un luogo in cui si deve insegnare, da una parte quelli insegnano, dall'altra parte quelli apprendono. Questa capacità di insegnare e di apprendere è oggi straordinariamente importante, anche perché oggi ci sono una quantità di strumenti, strumenti che tutti abbiamo in tasca, il nostro telefonino, il nostro computer, tutti strumenti che richiedono una loro competenza specifica e che molte volte, diciamocelo fra di noi, vede gli allievi essere molto più rapidi degli stessi insegnanti. Allora però questo può aprire anche dei modi nuovi di fare apprendimento e insegnamento. Questa è una cosa importante perché, vedete, io sono di una generazione, come molti dei vostri insegnanti, non tutti, ma alcuni sì, che ero convinto di avere più cose da dire che modi per dirlo. Noi oggi invece abbiamo mille modi per comunicare, siamo sempre interconnessi. Se non abbiamo il nostro telefonino in tasca che ogni tanto ci fa bip, ci sentiamo perduti e nudi. Ecco, io credo che in questa situazione la scuola non debba soltanto insegnare o usare gli strumenti, non debba neanche dire sempre tutte le informazioni, anche perché ogni volta che io dico un nome qualsiasi, rododendro, voi andate su Wikipedia e mi dite che cosa vuol dire. Però la scuola paradossalmente oggi serve più di prima, perché serve per orientarsi, serve per avere le idee, per avere le parole per dirlo. Le parole per dirlo. Le parole per dirlo sono fondamentali. Perché a volte non basta un tweet. A volte bisogna proprio avere le parole per dirlo. E le parole per dirlo ce lo insegnano anche i secoli di letteratura che abbiamo dietro le spalle e che a volte a scuola quando li vediamo sono anche pesanti. Però a volte, pensate, a volte una idea che a noi sembra nuova e magari l'ha detto un greco duemila anni fa. E a volte si torna anche a ragionare su quelle cose lì che abbiamo visto per poi ripensarle tanti anni dopo. Io stesso, scusate se ogni tanto lo dico, io stesso quando ero a liceo ho vissuto tutta la letteratura come una cosa pesantissima. Beh, quella lettura lì pesantissima mi è servita molti anni dopo per rileggerla. E adesso, che ho pochi capelli bianchi, li sto rileggendo tutti. Sto rileggendo tutti i classici, che sono classici, perché hanno fissato alcune idee fondamentali che servono anche a noi. Anche a volte da mettere in un tweet. Quindi, grazie a voi, grazie agli insegnanti, insegnanti, grazie ai ragazzi, grazie a tutti coloro che hanno permesso la riapertura di questo anno scolastico, grazie alle famiglie, grazie alle autorità e grazie soprattutto a tutti coloro che si vogliono mettere lì e a pensare che forse anche i nostri pensieri prima o poi diventano classici.